Sull'eco compenso è l'obbligo del pagare le prestazioni dei professionisti. È una norma che forse solo in un'altra regione abbiamo vista approvata. È frutto del lavoro di sintesi che il presidente Di Matteo, il capogruppo Testa e tutti gli altri capogruppi di maggioranza hanno voluto fare con i gruppi di opposizione, in particolare il Movimento 5 Stelle. Ne è uscito un testo moderno, concertato e utile a tutelare le libere professioni che devono vedersi tutelate nel pagamento delle proprie prestazioni. Domani andrà in consiglio. Siamo certi che verrà approvata l'unanimità e saremo noi una delle regioni in Italia che su questo tema farà giurisprudenza. La concertazione doveva camminare su un duplice binario, da un lato quello politico, quindi abbiamo cercato la massima condivisione possibile in commissione e da qui la scelta, per esempio, avendo tre testi di legge sul medesimo argomento, di procedere alla realizzazione di un testo unificato proprio per evitare quelle piccole tensioni della primo genitura o dell'appropriazione politica, evidentemente, della paternità del testo. Di questo ringrazio il presidente Sospiri, è stata una mia scelta che lui poi ha condiviso e ritengo che poi alla luce di ciò che è accaduto è stata una scelta lungimirante. L'altro binario dove abbiamo cercato la massima condivisione possibile, ed è forse quello ancora più importante, è stato quello di coinvolgere, evidentemente, tutte le categorie, tutti coloro che da questa legge dovrebbero trarne un legittimo beneficio, che sono le categorie libero professionali. E lì il coinvolgimento è stato massimo, sia nella fase endoprocedimentale delle audizioni, abbiamo provveduto a chiamare, tra l'altro, non solo le categorie professionali, ma anche l'associazione dei consumatori, quindi pensando al cittadino, e il CAL, il Consiglio dell'autonomia Locale, pensando alle autonomie locali. Quindi crediamo di aver audito un pochettino tutte le parti in causa.